Un progetto che possiamo dire gioca in casa perché siamo in Alta Valseriana, un territorio che la sua famiglia conosce bene e un progetto che riguarda la sua azienda in un modo nuovo. Parliamo di sostenibilità in questa inaugurazione importante per voi oggi. Come mai avete partecipato a questo bando come sinergia? La sede di sinergia qualche anno fa era nelle vicinanze. Questo è un luogo a cui eravamo parecchio affezionati perché nelle pause pranzo e nell'andare e venire dal lavoro passavamo proprio di qua. Quando c'è stata l'opportunità di questo bando, insieme con la famiglia della Baitella, che sono ovviamente i nostri parenti, ci siamo voluti impegnare proprio per dare un supporto e dare una chiave di sostenibilità applicata alla nostra realtà. Noi adesso siamo ad Albino, però il 50% delle nostre persone abita nel raggio di 5 km da qui e di conseguenza riteniamo che sia importante creare luoghi che possano dare benessere alle persone. In questo caso, questo luogo in particolare dà benessere sia a livello spirituale, proprio per tutto il verde che c'è, per il poter essere un rifugio per poter andare a rilassarsi, riposarsi, ma anche per la socialità, proprio per questo ristorante, piuttosto che per le varie manifestazioni che potremmo, e che grazie a Pietro, potremmo andare ad organizzare. Siamo molto contenti di partecipare a questa cosa perché ritengo che sia un valore aggiunto che siamo chiamati a restituire al nostro territorio. Un bel crescere. Oggi vi apprestate a cominciare questa nuova avventura. Come avete intrapreso questo progetto qui al Parco Resa, a Fino del Monte? Stavamo chiacchierando così con Amedeo e il fratello di Norma e avevamo in mente di proseguire questo progetto. Dopodiché lui è uscito dicendoci dovete parlare allora assolutamente con Norma e così è stato. Uniamo le forze, creiamo sinergia con la persona che penso che sia la madrina del significato e andiamo a costruire appunto questo progetto del Parco Resa. Il Parco Resa che ha un grandissimo potenziale secondo un po' tutti. L'idea è concentrarci sì sulla ristorazione ma anche sulla zona esterna, come ha appunto prima detto Norma, e nell'organizzazione di eventi di qualsiasi tipo, dagli eventi per le famiglie, per i più piccoli, per i ragazzi, per la gente più adulta. Faremo anche dei corsi che si svolgeranno la mattina e in tarda serata anche magari degli eventi legati alla musica dal vivo. Il progetto è a 360 gradi, comprende praticamente tutto, dalla colazione fino appunto all'aperitivo e alla serata. Abbiamo anche intenzione di fare diverse aree all'interno di questo parco che non vi svelerò perché vedrete nel corso degli sviluppi che sono molto interessanti e cercheremo di valorizzarlo al 100%. Comunque sia questa qua è casa nostra, sia io che Norma siamo di fino e ci passiamo praticamente davanti tutte le sere guardando giù dalla finestra ogni sera diciamo ma che bello il parco, è troppo bello, è casa nostra, più bello di così non potrebbe essere.